Musica Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile Apostolo davanti a Dio oggi, non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera ed importante. Grazie. Grazie. Grazie nostro caro e amato Papa Paolo VI. Grazie per la tua umile e profettica testimonianza di amore a Cristo e alla Sua Chiesa. Grazie.